puntuale come le feste comandate torna con l'autunno utiatra tre barona per agliettare le fine settimana dei bitontini con il sano teatro dialettale con me ci sono tanino barone vito stallone e michele barone allora io direi di iniziare subito a farci spiegare e a farci anche pronunciare il titolo della commedia che portate in scena quest'anno ecco la commedia si chiama semplicemente ucazzariz ucazzariz viti e che cos'è dunque innanzitutto mi preme dire che non è un lavoro nostro l'idea iniziale credo del padre di franco spadaro di nicola nicola pignataro ed è andata fortissimo questa commedia una trentina di anni fa al purgatorio pare che fu replicata per almeno un anno purgatorio che è un famoso teatro barese dialettale perfetto perfetto abbiamo ripreso questo lavoro e lo abbiamo praticamente integralmente rivisto tradotto innanzitutto in bitontini ma poi integralmente proprio rivisto tanto è vero che abbiamo detto è giusto un rifacimento abbiamo fatto un bel lavoro da questo punto di vista sia io che il professor stallone e pare sia venuta fuori una cosa simpatica ucazzariz ucazzariz a questo punto è soltanto uno strumento e il il signor minguccio che sarei io che per la prima volta nella storia o esautorato della sua funzione michele barone sono diventato io il marito dell'altra parte angela bufano gli alternate sì praticamente quindi angela ha tradito michele con me sta poi e dunque faccio l'inventore in questa commedia e invento cose straordinarie che non servono a niente una di queste è ucazzariz praticamente uno strumento per cazzare i ricci con il posteriore adesso voglio fare una domanda all'altro al coregista a vito stallone ma gli attori ci sono dimostrati bravi ad usare questo cazzarizzo sì sicuramente allora il cazzarizzo che in inglese si dice cazzarizzo 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 questo è un remake un rifacimento di quello che è stata una grandissima commedia barese ma noi l'abbiamo intercalata nella realtà bitontina perché ci preme avere le tradizioni conservare le tradizioni di una cultura di una lingua dei modi di dire dei modi di agire della comunità di bitonto e anche dei dintorni ovviamente io personalmente è una delle finalità istituzionali di questo gruppo questo di perpetuare le tradizioni la lingua particolari parole che ormai erano in disuso quindi perpetuarle nel tempo e salvarle insomma ecco tra i protagonisti è anche uno degli attori Michele Barone nonché aiuta il regista allora com'è stato riuscire a tradurre in bitontino il dialetto barese? com'è stato? insomma addirittura l'abbiamo letto in italiano e tradotto in dialetto bitontino simultaneamente quindi è stato facile l'altro è vero e quindi quindi sarà da divertirsi sì ci sarà certamente da divertirsi il discorso della traduzione ha avuto in effetti due passaggi visto che così come era scritto quel testo originale era effettivamente incomprensibile alla maggior parte delle persone abbiamo dovuto prendere questo testo renderlo in italiano ognuno ha avuto il copione in italiano e se lo è tradotto se lo è fatto suo a poco a poco quindi è stato questo tipo di lavoro abbiamo dovuto farlo voi imparate a memoria o improvvisate c'è tanta improvvisazione indubbiamente c'è tanta improvvisazione però è chiaro che un canovaccio ci sta sempre e lo devi seguire anche perché voglio dire un percorso da seguire hai bisogno di tenerlo a mente giusto per far andare avanti proprio la commedia noi qui abbiamo i tre maschi protagonisti della commedia ma Vittorio Stalore vogliamo ricordare le due donne che ci sono che recitano con voi anche sì abbiamo Cettina che è ovviamente la moglie dell'inventore e poi abbiamo Marisa dalla doppia diciamo doppio ruolo doppia personalità una è Marisa figlia di Minguccio e una è Marisa sorella di Minguccio ovviamente l'interscambio dei ruoli fa nascere la commedia degli equivoci la commedia in cui però in questa commedia c'è un guappo un guappo e questo guappo è l'unico che non parla di Bitontino perché è un guappo di palo sapete ci sono ioi ioi sono weline menzannotte ora un'altra cosa interessata di quest'anno è che il palcoscenico sarà per tutte le repliche il teatro traetta mentre prima diciamo vi alternavate tra l'auditorio adesso finalmente tutto al teatro traetta innanzitutto è un omaggio al teatro traetta per quello che è stato per quello che è onestamente e Civettuolo lo abbiamo visto è bellissimo all'interno addirittura ci si sente a volte professionisti anche se una parola grossa 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 non aderisce affatto a quella che è la nostra realtà però voglio dire è un'esperienza calcare quella scena è davvero un'esperienza poi le maestranze del teatro sono personaggi a noi vicini vogliamo ricordare le date in cui voi sarete al teatro così chi vuole venire a vedervi si appunta a queste date ecco giusto noi andiamo in scena il giorno 19 sabato alle 21 e il giorno domenica alle 19.30 quindi mi raccomando lo spettacolo pomeridiano è saltato perché era aveva una certa finalità ma noi e il nostro sogno è questo manderemo un progetto o delle lettere soprattutto alle scuole elementari di Bitonto affinché i ragazzi i bambini della scuola elementare vengano in un mattinè soprattutto il mattinè di sabato 4 dicembre a sentire il mattinè di sabato 3 dicembre ad ascoltare la lingua dei loro nonni dei loro genitori le tradizioni i vocaboli gli usi questa è cultura è cultura che noi non possiamo trascurare ma la dobbiamo conservare gelosamente spero che i presidi e i docenti raccolgano questa opportunità perché noi passeremo a dare questi progetti affinché venga data la possibilità anche a loro di fare un bel mattinè grazie grazie a voi no non ho detto tutto no c'è un'altra cosa da dire i numeri a cui chiamare per prenotare 080 3751 378 cellulare 348 93 620 76 perfetto io direi che oramai abbiamo detto tutto abbiamo incuriosito aspettiamo solamente che la gente arrivi copiosa al teatro le prenotazioni vi telefonano adesso lascio a voi per un saluto finale agli amici di Bitonto TV gli ultimi 30 secondi e dare l'appuntamento agli amici al teatro Traetta volete fare l'amico Vito Stallone allora un saluto un invito e un saluto agli amici di Bitonto TV a venire a teatro o di cittadini amici vuoste ma noi che è bello la vita davvero lo garantisce o è lì in mezzanotte è un bucino per Bitonto TV dal bunker del teatro tra le barone Francesco Campione tutti a teatro grazie a tutti